Porre al centro il cittadino e le sue esigenze, dando priorità a tutti i problemi legati alla qualità della vita e ai suoi aspetti concreti. È l'obiettivo della lista civica Prima Fossombrone, guidata da Fabio Londei, in lizza per la vittoria delle elezioni comunali che si terranno il 3 di 4 ottobre a Fossombrone. 67 anni, ristoratore e già segretario di Col Diretti, Londei è stato anche sindaco di Sant'Ippolito. Con lo slogan, la gestione di un comune non è un affare per pochi, ma un dovere e un servizio per la collettività, l'intento della lista e dei candidati è quello di soddisfare le esigenze e rispondere ai bisogni di Fossombrone e dei forsempronesi. Le ragioni per cui mi sono candidato è la passione per la politica e il tempo a disposizione che fra poco da pensionato avrò e quindi sarò un sindaco assolutamente a tempo pieno. Con me ci sono dei candidati che si riconoscono decisamente in un'area di centro-destra, chi la rappresenta è un uomo iscritto dalla democrazia cristiana da 50 anni, è decisamente un uomo di centro, ma questa lista è supportata anche da persone che si riconoscono decisamente in un'area di destra. Un programma elettorale, quello proposto da prima Fossombrone, ricco di obiettivi e di cui punti salienti, sono riassunti in un patto sottoscritto dallo stesso Londèi con i cittadini. È un impegno che prendo, una promessa che sono convinto di poter realizzare, ha spiegato Londèi. Sono indicato dieci punti a cui daremo sicuramente la priorità, questo patto è sottoscritto da me e ovviamente condiviso da tutti e poiché io sono un uomo che vive in questo posto, che vive dalla mattina alla sera la città e anche la periferia, non posso non essere chiaro e solidale con i cittadini. La trasparenza prima di tutto e l'impegno e la serietà viene contraddistinto con questo foglio in cui sono elencati i punti che per me sono la priorità assoluta. Gli obiettivi principali segnati nel patto vanno dalla creazione di una macchina amministrativa efficiente alla ristrutturazione di alcuni edifici scolastici, all'ambiente e alla viabilità. Grande l'impegno è rivolto alla questione dell'ospedale di Fossombrone. La sanità e quindi impegno tassativo per la riapertura dell'ospedale, una struttura ferma da 5 anni che è il bocciodromo a cui daremo sicuramente una destinazione, una REMS Ancorella, lo stesso è una struttura ferma e bloccata lì da anni in cui cercheremo in tutti i modi di cambiare le destinazioni d'uso, turismo e cultura la faranno da padrona anche perché non servono grossi investimenti ma servono soprattutto delle idee chiare per promuovere un settore e Fossombrone di cose belle da farne vedere ne ha veramente tanti, un'attenzione sempre particolare l'avremo ai commercianti che esercitano l'attività lungo il corso principale, abbellendolo, cambiando l'aspetto e soprattutto togliendo l'isola pedonale consentendo una libera circolazione alle macchine che in questo periodo e da troppo tempo limita l'affluenza delle persone e pregiudicando il buon andamento delle attività che vi sono. A questo aggiungeremo anche degli sgravi fiscali per evitare comunque che le serande non si chiudano più.